ciao amici del gruppo ordi zentron alessandro finalmente arrivate dietro di me potete vedere la nuova e-tron la prima full elettrica della casa di quadraneo questa macchina unica nel suo genere dopo vi spiegherò perché rappresentiamo qui in questa zona consegna molto legata a quello che è stato per molti anni la mia vita in motosport e non a caso questa macchina è una conseguenza dell'esperienza che audi sport sta facendo ormai da anni nel campionato di forma caratteristiche principali di questa e-tron che racchiude sportività ecologia comfort racchiude diciamo racchiude un po tutto e vi spiego anche perché sportività in quanto l'accelerazione di questa macchina è veramente brutale paragonabile a tutte le versioni s della casa di ampi addirittura un pochino più veloce della della tts addirittura macchina sportiva per antonomasia silenziosità dovuta naturalmente alla tecnologia e-tron quando si è all'interno della vettura si vive in un mondo praticamente ovattato e si sente solo il siglo dell'aria sulla carrozzeria che tra l'altro ha un CX che è il record della categoria con 0,29 0,29 che addirittura diventa 0,27 quindi un valore incredibile per un SUV se come optional invece dei classici specchietti retrovisori decidiamo di mettere le due telecamerine che sostituiscono lo specchietto retrovisore classico la parte posteriore secondo me racchiude quello che per un appassionato Audi è il riassunto di questa vettura il dna di Audi rappresentato da quattro con la nuova sigla idron che è la mobilità del futuro e la scommessa di Audi per i prossimi anni vi invito perciò a venire nelle nostre sedi via Alessandria, Asti, Albe e Cuneo per effettuare personalmente un test drive e per prendersi conto il livello a cui abbia riuscito a portare la mobilità elettrica nel 2019 sarà una grande sorpresa per tutti ciao 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 ciao